ciao a tutti e bentornati nuovamente nel mio canale nel video precedente avevamo visto come si realizza un cavo di rete per la connessione dati il classico cavo ethernet utilizzando un cacciavete in sostituzione alla pinza per crepare i connettori ma in questo video andremo a vedere un'altra cosa interessante come si costruiscono dei cavi per fare il ponticello fra due batterie avete presente quella situazione di merda quando siete con lo scooter provate accenderlo e non funziona e non avete la pedivella per metterlo in moto beh naturalmente se avete dei cavi magari qualcuno con la macchina potete risolvere questa fastidiosissima situazione se non avete i cavi dovete sperare che il vostro amico o qualcuno che passa li abbia noi li andremo a realizzare beh voi direte ma li vendono fanculo i cavi che vendono non me ne frega niente perché fanno cagare che costano li andiamo a realizzare io li ho realizzati sono molto robusti molto professionali e molto resistenti fanno passare quella quantità di corrente necessaria per avviare un motore elettrico andiamo a vedere questo cavo i cavi sono questi come potete vedere sono dei cavi molto robusti e sono pesanti voi non potete sentire il peso ma io sì perché ho utilizzato il classico cavo elettrico quindi un cavo da 10 di sezione 10 mm quadrati quindi un cavo che in teoria considerato dai 4 5 ampere per millimetro quadrato è un cavo che arriva benissimo ai 50 ampere beh naturalmente dovete stare in certe misure non potete prendere un cavo da 30 metri non avrebbe nemmeno senso quando andate a acquistare questo cavo nei negozi dove vendono materiale elettrico bastere a chiedere al commesso mi servono sei metri di corda da 10 mm quadrati lui capisce che si sta parlando di sezione e quindi vi dà il cavo giusto se avete una batteria più grande avete un macchinone che ha una batteria da 100 120 ampere potete prendere anche il cavo da 16 mm quadrati però io cerco di stare un giusto compromesso tra batterie dei classici ciclomotori scooter e batterie della macchina naturalmente camion esclusivo allora un altro piccolo accorgimento da fare come potete vedere sono due cavi neri sono due cavi lo stesso colore sono cavi neri per identificare il positivo dal negativo basta utilizzare della guaina termorestringente io avevo quella rossa in laboratorio e ho utilizzato un pezzettino di guaina rossa anche perché sinceramente secondo un mio gusto mi piace più avere due cavi dello stesso colore che un cavo rosso e un cavo nero comunque basta che si distingua il rosso positivo dal nero negativo se non fate un bel corto circuito oppure peggio ancora invertite la polarità alla batteria quindi fate bene attenzione è importante segnare i cavi col proprio colore andiamo a vedere come si realizza il cavo allora eccoli qua i nostri cavi il nostro cavo nero per il negativo e il cavo rosso per il positivo una cosa che secondo me è molto importante da specificare è che io ho realizzato questi cavi senza saldare senza crimpare niente ora vi faccio vedere come ho fatto questa tecnica abbastanza semplice per unire cavo elettrico con un morsetto allora questi sono morsetti che si acquistano in qualsiasi negozio dove vendono materiale elettrico ed elettronico sono morsetti che costano molto poco anche perché non hanno nessuna particolare caratteristica ho trovato un giusto compromesso perché questi riescono a prendere sia i morsetti più piccoli delle batterie degli scooter o ciclomotori e sia anche quelli delle batterie di autovetture allora con una spesa di 3 euro poco più ho preso tutti e quattro i morsetti poi il cavo naturalmente ha un costo un pochino più elevato ma considerate che si parla di un cavo elettrico di una certa sezione quindi un cavo molto importante e resistente che fa passare una corrente necessaria per mettere in moto il nostro motorino d'avviamento quindi niente a che vedere con le porcherie cinesi adesso andiamo a vedere come si fa la tecnica praticamente per unire il cavo di rame con il morsetto stesso allora eccoli qua i nostri amici termorestringenti allora ci sono due modelli questo è quello con il collante e questo è senza collante allora questo lo useremo come rinforzo e servirà proprio per tenere serrato il cavo al morsetto mentre questo qua lo useremo come rivestimento per identificare il colore del morsetto ora noi stiamo lavorando sul morsetto rosso quindi andremo a realizzare il morsetto rosso allora prima cosa da fare è una volta che abbiamo scelto il termorestringente vedete anche lateralmente lo spessore questo è molto più spesso e anche molto più resistente rispetto a questo che vedete non so se lo trovate con facilità questo termorestringente con collante comunque potete benissimo utilizzare anche in assisolante io uso questo come una questione di professionalità avere un lavoro un pochino più carino e degnitoso da vedere allora importante la prima cosa da fare è inserire all'interno il termorestringente mettiamolo subito anche se stiamo facendo un lato lo possiamo infilare dall'altra parte visto che non è ancora intestato ma noi per abitudine lo inseriamo subito allora dobbiamo inserire un pezzettino di termorestringente nero questo quindi possiamo fare anche come misura la stessa del di quello già esistente che se non è un termorestringente comunque ecco e poi prendiamo un pezzettino di guaina rossa e la facciamo leggermente più lunga ma proprio di poco intanto da coprire la parte nera prendiamo il cavo e passiamo i due termorestringenti in modo da poterli prendere successivamente adesso dobbiamo tagliare un pezzettino mettiamo a nudo il cavo di rame tagliando due centimetri due o tre centimetri di guaina eccolo qua e adesso andremo a fare un'operazione abbastanza semplice e banale però è molto importante adesso prendiamo il morsetto e non so se riuscite a vedere ma questa parte c'è un foro una scaramatura dove il cavo dovrà passare all'interno poi vi spiego perché prendete meno della metà prendete meno della metà fate un piccolo ricciolino e dovete infilarlo qua dentro ecco fatto adesso lo tirate indietro perché questa operazione perché una volta quando sarà inserito il termorestringente sarà termore stretto se voi provate a tirare vedete che il cavo non si stacca sarà quasi impossibile staccare un cavo come questo vuol dire deformare una guaina termorestringente così spessa adesso che abbiamo fatto questo prendiamo questa parte la pieghiamo su se stessa vediamo se si riesce a farla vedere in questo modo e la spingiamo in avanti ecco fatto questa operazione è molto importante perché la corrente deve passare questo lo possiamo tagliare un pezzettino ok allora guardiamo sopra vedete qua il cavo come è doppio e qua è stato riportato in modo da bloccare durante il tiraggio adesso dobbiamo semplicemente portare la guaina termorestringente a coprire una volta termo ristretta il cavo non si muoverà più andiamo a prendere il phon ecco il classico phon o pistola termica e abbiamo termo ristretto l'unica parte è attenzione perché adesso scotta ed è anche morbido bisogna lasciargli il tempo per seccare quindi aspettiamo quei due minuti passate i minuti si è raffreddato adesso provate a fare attirare quanto non si staccherà perché è stato fatto un bel lavoro su questa zona ora questo qua è un morsetto del positivo ma è la prima fase per realizzare il morsetto del negativo vedete questa è già nero quindi non serve necessariamente inserire un ulteriore guaina termorestringente perché già è stata inserita ed è quella che praticamente fa tenuta fa tenuta e fa colore ma invece se dobbiamo realizzare il morsetto rosso che ha praticamente che ha una gomma di rivestimento rossa dovremmo adattarci perché così uno non sa se è positivo o se è negativo ecco che interviene l'altro pezzettino di termorestringente che abbiamo inserito che è quello rosso lo mettiamo all'interno e sempre utilizzando la pistola termica lo potete fare anche direttamente col fornello accendete il gas e lo fate passare sopra ok naturalmente attenzione a non bruciarlo vedete questa è una guaina molto molto più sensibile perfetto il cavo è finito aspettate sempre quei due minuti perché comunque scotta anche questa parte che è in metallo il morsetto del positivo è finito fate la stessa cosa dall'altra parte dall'altro lato utilizzando sempre la stessa tecnica come abbiamo visto e otterrete dei cavi cavo rosso del positivo e cavo nero del negativo siamo pronti alla fine iscrivetevi al mio canale se avete trovato questo video o altri miei video interessanti anche come motivazione e incentivo per me per realizzarne altri e naturalmente anche per voi che sarete aggiornati ogni volta che ne verrà pubblicato vi ringrazio ancora una volta per la visione e al prossimo video tutorial ciao